240 anni che hanno scritto tutta la storia della nasce, dalla prima fila fino all'ultimo di mancio ha provato pochi giorni fa. In sostanza ha portato tutti gli argomenti che possono essere, che sono di competenza di un'azione provinciale, per dirlo in breve in termini economici, noi abbiamo anche dato il nostro placer come consiglio provinciale a 120, oltre 120 milioni di investimenti su questo territorio, sul nostro territorio, di somme che competevano a questo territorio e che le abbiamo distribuite per tutti gli scopi. Investimenti, quando parliamo di investimenti, chiaramente sono opere che potremo anche vedere nella loro tasse finale che fa qualche anno, però devo anche aggiungere che in questi quattro anni e mezzo, io devo dire grazie perché personalmente sono stato eletto, non ha limitato il consiglio provinciale, il luglio, il 2012, grazie chiaramente il presidente che mi ha proceduto e sicuro che mi ha risparmato, ma il dato etico che mi porterò sempre dentro è una crescita che ho visto in questo consiglio provinciale di coloro che ne hanno andato a parte. Siamo arrivati come rappresentanti di 12 campanile, oggi posso dire che tutti noi lo portiamo a lei con l'altro, con molto senso di orgoglio, l'avere partecipato ad un consiglio nel quale abbiamo rappresentato, a ultimato, per le nostre città di provenienza. Io spero, non so, come diceva il presidente, di cosa succederà di questi evidenti territoriali con la nostra provincia, certo voglio sperare che i cittadini rispetto al 2009 abbiano acquisito una maggiore consapevolezza della presenza di questa istituzione, che ne abbiano magari scontrato anche i benefici interni, anche i disampizi, dei primati ce li abbiamo e li lasciamo comunque una storia e al futuro, non sappiamo cosa succederà su questi enti, però come parli fondatori abbiamo anche quasi in maniera, prevedendo il loro futuro, nello Statuto messo un articolo in cui abbiamo chiamato i sindaci di questo territorio a partecipare alla concertazione amministrativa del territorio stesso. Posse, potrebbe essere una delle soluzioni che il decreto in via di approvazione potrebbe portare come passaggi successivi, forse non si voterà più, se si voterà è chiaro che saremo pronti ognuno di noi nei ruoli politici diversi, ma con lo stesso spirito a portare ai nostri territori, ai nostri cittadini un esame e un bilancio convinto. Il costo politico di questa provincia, il costo della politica, questa provincia monta a 1,50 euro circa al cittadino armato, vale a dire il corrispettivo di due a tre. Se questo sarà il risparmio economico che si può portare al nostro Paese per risolvere i problemi del nostro Paese, vedremo la storia. Grazie e di nuovo l'ottore, di nuovo l'ottore agita